Una piccola biblioteca in legno nel mezzo di un giardino è a disposizione di tutti. L'iniziativa è della scuola primaria Carlo Collodi di Santa Firmina che ha inaugurato una vera e propria casetta dei libri che realizzata artigianalmente da Antonio Domini con materiale di recupero, nasce con l'obiettivo di promuovere e favorire la lettura. La scelta è stata di collocare questa biblioteca in un luogo pubblico, il parco giochi adiacente alla scuola per permettere di utilizzarla a tutti i bambini e le bambine del paese di Santa Firmina. La nostra scuola porta il nome di Carlo Collodi quindi non poteva che essere una scuola che ama i libri e la lettura. I libri e la scuola sono un binomio che può essere scontato ma come lo intendiamo noi non sono soltanto come strumenti didattici utilissimi per imparare a leggere, per imparare a studiare e quindi ampliare il lessico, le competenze linguistiche ma sono anche un strumento, un compagno di avventure e di gioco. Ecco perché la nostra casa dei libri si è spostata in questo parco giochi, in questo spazio di gioco dove i libri possono essere veramente una porta verso altri mondi, altre storie che i ragazzi possono inventare e vivere. Non abbiamo inventato niente nel senso che queste esperienze sono nel territorio, si trovano sia ad Arezzo sia in altri contesti ma le buone prassi è bene che si diffondano.